Il Rimini Football Club incassato a Faenza, la prima sconfitta in partito ufficiale della sua giovane storia, torna al Romeo Neri per ospitare il Faro Copp, compagine che con i suoi 14 punti staziona metà classifica. I biancorossi a quota 26 guardano ancora tutti dall'alto verso il basso, morano il fiato sul collo del Sasso Marconi, distanziato di una sola lunghezza. Mastro Nicola deve inventare la difesa viste l'assenza di Cola, ancora i boxe e Righini squalificato. Sulla mediana, out, Contarini e Fabri, in avanti Buonaventura c'è, Ricchiuti no, sostituito sulla tre quarti da Filippucci. Novità al Romeo Neri, le panchine sono tornate dalla parte della tribuna centrale. La partita, al terzo sugli sviluppi di un calcio piazzato dalla metà campo, Daniele Lenzi prova la rovesciata da centro area, ma non colpisce al meglio il pallone, pericolo scampato per Scotti. Al sesto il primo tiro della partita nasce da una leggerezza di Gabrielli, che consegna palla a Romeo, conclusione fuori bersaglio. Al sedicesimo Brighi in verticale per Filippucci, che in area si libera di Corvino e serve Signorini, sul cui sinistro Crocco si salva in angolo. Al diciottesimo corner di Filippucci è incornata di Brighi, sfera oltre alla traversa. Al diciannovesimo bella azione delle Rimini, Buonaventura a destra si beve Corvino e mette al centro, Crocco esce di pugno, Arlotti calza oltre alla traversa. Al trentunesimo duello tra Buonaventura e Daniele Lenzi. Subentra Arlotti, che carica il destro, Crocco ribatte e Corvino mette in fallo laterale. Al trentatresimo rimessa di Brighi, Arlotti protegge il pallone, traversone tagliato di Buonaventura sul secondo palo, Carnesecchi vede il pallone solo all'ultimo e di testa spedisce a lato. Al trentaseiesimo, Carnesecchi per Filippucci. Colpo di tacco per Arlotti, che in trenare finisce a terra dopo il contatto con Nardi. Per il signor Medri di Cesena, a un passo dall'azione, è tutto regolare. Al quarantaquattresimo il Rimini sblocca il risultato. Lancio di Filippucci per Signorini, che resiste al ritorno di Lucchi e in caduta tocca, infilando Crocco in uscita. Si va all'intervallo con i Biancorossi avanti di un gol. Al quinto della ripresa rimessa di Costantini, Gazzoli prolunga di testa per la girata del neoentrato Mazzetti, pallone alto. Occorre aspettare fino al ventottesimo per vedere un'altra occasione, la punizione di Nicolas e Costantini a lato. Alla mezz'ora il tiro cross di Carnesecchi sorvola la traversa, con l'estremo ospite immobile. Al trentaseiesimo il Rimini raddoppia. Dopo un recupero di Arlotti su Corvino, che resta a terra, Cicarevic riceve da Carnesecchi, porta spasso alla difesa ospite, con attanto di tunnel a Mazzetti, e mette al centro. Michael Costantini, nel tentativo di anticipare Buonaventura, scaraventa le spalle del suo portiere. Al trentanovesimo è Signorini da andare via a sinistra, su servizio di Cicarevic, pallone retrato per Albini, miracolo di Crocco che respinge. Al quarantaseiesimo ancora Cicarevic per Signorini, che ha tutto il tempo per prendere la mira e andare al tiro. Crocco ribatte, a Cecconi non riesce il tapin. I Biancorossi chiudono in dieci per l'espulsione al quarantasettesimo di Gabrielli, per doppia munizione. Al quarantanovesimo Mattia Lenzi frana a terra, dopo un corpo a corpo con Carnesecchi. Anche in questo caso per l'arbitro è tutto regolare. Finisce 2-0 per il Rimini, che sa la quota 29 in classifica e si porta più tre sul Sasso Marconi secondo. Terza parte quindi di Calcio Punto Basket, allora spazio interamente al Rimini. a questo pronto ritorno alla vittoria con il Faro Copp, un 2-0 che riporta il vantaggio diciamo a almeno una partita. Perché adesso il Sasso Marconi è distanziato di tre lunghezze, quindi Rimini che prova un altro mini a lungo. Il campionato è ancora lunghissimo, fa bene, dice bene il tecnico Mastro Nicola. Insomma teniamo i piedi ben saldi per terra perché ancora c'è tantissimo da faticare. Però insomma un Rimini che era importante, avesse una reazione, l'ha avuta ed è stata una reazione importante contro una squadra scorbutica, devo dire anche a tratti rognose perché insomma è stato un Faro davvero molto molto grintoso, molto aggressivo. A volte forse si è anche superato un po' il limite, poi ne parleremo con il pallone lontano. Insomma mi hanno raccontato di ceffoni che sono volati in indirizzo dei nostri più giovani, tipo Arlotti che ha preso due o tre scappellotti che insomma sarebbe bene non si vedessero più insomma nei campi di calcio, insomma siamo nel 2016, ora questa intimidazione nei confronti dei giovani credo sia del tutto diciamo da criticare, insomma credo che al primo ospite, che adesso ti faccio introdurre, sia più difficile dare uno scappellotto perché insomma è di una certa stanza, invece è più facile dare all'Arlotti che invece è mingherlino, è piccolino, insomma però non è giusto. No, non è assolutamente giusto, lui però se te la ridà indietro poi ti fa anche male. Sicuramente ti può fare male. Sto scherzando, stiamo parlando dell'attaccante delle Rimini, Giacomo Cecconi. Ciao Giacomo, buonasera. Buonasera, altro giovane ma insomma un po' più diciamo un po' più armadio rispetto al povero Scott che vi ha confermato queste cose, insomma è stato riferito che col pallone lontano ha preso tre scappellotti. Ci ha confermato assolutamente questa versione che comunque a palla lontana gli avversari più volte hanno cercato comunque di colpirlo, ce l'hanno fatta. Insomma, robe antipatiche. Che brutta cosa, che brutta cosa, sì esatto. Andiamo subito a presentare gli altri ospiti a partire da Gianmarco Porcellini. Ciao Gianmarco. Ciao, buonasera. Buonasera Gianmarco. È tornato perché settimana scorsa ci aveva momentaneamente lasciato, esatto. E non lo fare mai più, eh. Mi tocca anche lavorare ogni tanto. Ogni tanto, ogni tanto. Davide Baglietta. Buonasera a tutti. Ciao a tutti. Buonasera al nostro Baio. Iri, posso approfittare, adesso ci fermiamo un attimo, per fare i complimenti a Baio per le sue incursioni e anche a Donatella Filippi che non è qui con noi stasera ma che è sempre al mio fianco per le cronache perché davvero io ho rivisto in parte ieri e in parte anche oggi pomeriggio la partita e devo dire che le tue incursioni, i vostri commenti sono sempre molto pertinenti ma i banali, quindi insomma mi piace, sono un bel arricchimento della cronaca. Però no, i tifosi del Rimini ieri mi hanno fermato e mi hanno detto che devi parlare più piano perché se no non capiscono. Quello deve andare più piano. Vero? Un cronista non può andare piano, insomma non è che si possa rallentare. Quelli del reparto geriatria, che c'è una zona. Va bene, va bene, insomma un po' di ritmo ci vuole nella cronaca, insomma adesso abbiate alzate l'apparecchio acustico, non so, però abbiate un attimo un po' più di attenzione. Io ho detto che devo venirtela a dire a te perché se dicono a me, che poi lo dico a te, te ti offendi perché sei per malosso, diteglielo voi, non venite a dirmi, riferiscono tutte a me, mi fermano allo stadio, no. Ma guarda, io adesso poi sembra di auto incensarsi e non va bene. Invece devo dire che veramente un sacco di persone mi fermano, mi scrivono e quindi io non posso fare altro che ringraziarli, tranquillizzare quelli che mi dicono che rivolgono la rubrica a un baio di voti. È vero. Ho fatto una promessa che quando torneremo tra i professionisti rispettano a fare... Anche in serie D, dai, facciamo in serie D, dai, non aspettiamo i professionisti, dai. Va bene, va bene. Quindi fa lo snodo, fa secondo me. No, no. Ma adesso apriremo con baio anche la rubrica. Mi hanno suggerito di dire, perché ci sono anche tifosi che lo fanno e gli dico, devi dire, durante la cronica, e gli dico i modi... Mi sembra giusto, mi sembra giusto. Io sto prendendo una cultura della dialetto... Sono qualche tifo che mi sto tenendo per i momenti più, diciamo... Più drammatici. Abbiamo già... C'è già rintrodotta. Esatto, infatti, gli davano tre ceffoni a me, gli davano un pugno in faccia, cioè... Vabbè... Non abbiamo dubbi, sì, non abbiamo dubbi. Cioè, tre ceffoni... Delle dinamiche, ci sono delle dinamiche nei campi, insomma, per cui il ragazzo educato come Scott Arlotti a volte purtroppo subisce... Va bene, ma tre di fila, almeno al primo... Ma non di fila, sono state nell'arco della partita. Sono quelle cose, non so, della gomitata, quando il... Mi ricordo che quando giocavano i giovanissimi... Ma quando ti dosta, va bene, quelle sì. Quello fa parte del caso. Vabbè, col pallone lontano la gomitata la puoi anche evitare, perché insomma... No, appunto. Un conto è quando stai andando a prendere il pallone, un conto è quando il pallone dall'altra parte del campo, e quando arriva, ti passa dietro, tira la gomitata, insomma. Sono cose che succedono sempre, anche adesso, no? Se non è cambiato il calcio, non cambierà mai, però... L'arbitro che ieri è stato impeccabile, infatti non si è accorto di niente, perché ieri l'arbitro è stato allucinante, però... Beh, quelle cose purtroppo sono estremamente difficili. Beh, dipende. Però vedremo dopo se ha sbagliato nelle decisioni. Sono i guardali che tanto non servono a niente, a parte a stare la bandiera, e stanno zitti, quindi... Vedremo però dopo nelle decisioni più importanti, perché insomma c'è anche qualche episodio da Moviola. E poi dopo lo andremo a vedere, non prima di avere presentato il nostro ultimo ospite, non ovviamente per importanza, anzi, Cesare Trevigliani. Il nostro primo opinionista storico. Buonasera a tutti. Buonasera, Cesare. Allora, tra l'altro impegnatissimo in questi giorni con la fiera, grazie per essere qui, per essere l'unico che mi accompagnerà anche nella parte relativa al Sant'Arcangelo, Silvia Pedini, non faccio riferimento ad altri. Allora, iniziamo, Giacomo, con il commentare di questa partita. Dicevamo anche ieri in sala stampa, Rimini era chiesta una pronta riscossa, dopo comunque una battuta d'arresto che è anche fisiologica, dopo 11 giornate senza sconfitta. Difenza è un Rimini che ha reagito alla grande. Assolutamente sì, Rimini ha fatto una grande prestazione, secondo me, contro una squadra che comunque era abbastanza, tra virgolette, ignorante, perché comunque il Farocop veniva comunque, come ogni squadra, viene a fare la partita al Romeo Neri, ci provano, cioè vogliono comunque portare a casa più punti possibili. E secondo me Rimini ha risposto alla grande, ha fatto una grande prestazione, portando a casa tre punti importanti. Quanto è stato importante quel gol proprio in addirittura d'arrivo della prima frazione di Signorini? Perché probabilmente se si fosse andato all'intervallo sullo 0-0 sarebbe stato ancora più difficile. Importantissimo per l'umore, perché comunque entri che sei in vantaggio, sei consapevole di comunque poter giocare un pochino più a viso aperto e poter magari affondare e fare magari il 2-0 come poi è avvenuto. Cesare, che partita è stata? Guardi, io spero di non esagerare, secondo me è la vittoria più importante, più bella forse no, ma più importante in questo campionato un po' perché il capitombolo di Faenza comunque poteva lasciare qualche strascico, un po' perché la squadra doveva reagire senza l'uomo a cui tutti quando hanno un po' di difficoltà consegnano il pallone e lui ci pensa a rimetterlo in gioco in maniera più giusta, non mancava solo i richiuti, mancavano anche altri giocatori importanti e poi perché l'avversario ha giocato, secondo me, come giocano le squadre quando affrontano i Rimini in casa. Di solito i romani sono un po' più timorose, un po' più prudenti, invece il faro ha giocato, secondo me, come Rimini trova gli avversari quando va su questi campi un po' più caldi, un po' più stretti, un po' più piccoli, con quella tensione agonistica caratteristica e infine perché il Rimini ha vinto una partita contro una squadra con una squadra particolarmente giovane. Io ieri mi sono tolto un po' la curiosità di fare un po' di paragoni e la squadra del faro era, mi sembra, 43 anni più anziana di quella del Rimini, vuol dire 4 anni mediamente per ogni giocatore, il Rimini era più giovane e non è una differenza fra 25 e 29 anni, è una differenza fra 18 e 19 anni, 24 e 25 anni, è un po' diverso in questo caso. Quindi alla fine non ha subito un tiro in porta, ha vinto meritatamente, per me una vittoria molto importante e molto significativa. Da un punto di vista tattico, ieri Gianmarco si è fatto un po' fatica di inquadrare lo scacchiere un po' variabile del faro che ha anche un po' cambiato le carte in tavolo tra difesa 4 e difesa 5, insomma c'è stata un po' di variazione nell'arco del match. Sì esattamente, era un modulo molto fluido, noi siamo abituati solitamente nel calcio moderno a vedere le squadre che si orientano sul compagno. In teoria di partenza era un 4-3-3 ma essendoci tre uomini del faro che marcavano a uomo, quelli del Rimini in particolare venivano marcati Buonaventura, Signorini e Filippucci e spesso in fase di non possesso quando Filippucci si alzava sotto a Darlotti andava a formarsi una linea 5 o addirittura anche a 6 perché c'era il laterale sinistro, Capitan Lucchi che scendeva sulla linea dei difensori per tenere Signorini, per cui in pratica era un 4-3-3 che poteva diventare a 5 ed è stato veramente una squadra tipica anche perché solitamente noi vediamo le squadre che arrivano a Rimini che si difendono passivamente, 10 uomini dietro la linea della palla, invece qui abbiamo visto un faro che il primo quarto d'ora 20 minuti comunque andava a portare grande pressione in zona palla. Rimini nonostante le assenze a cui ha già riferito Cesare ha giocato un'ottima partita, Filippucci è stato molto bravo a inserirsi, a muoversi dietro il centrocampo, idem Arlotti e quando comunque il faro è andato ad accorciare lo spazio tra la difesa e il centrocampo è stato bravo a Mastro Nicola ad aprire Buonaventura allargando anche Signorini è riuscito a lavorare in ampiezza, ha creato quei corridoi da cui è scaturito anche il gol del vantaggio. Secondo me a livello tattico è stata una partita che non è d'eccellenza da livello superiore e faccio i complimenti sia a Mr. Mastro Nicola che a Mr. Cati per quello che abbiamo visto nel primo tempo, poi chiaramente nel secondo tempo era una squadra il faro che non aveva un'idea precisa su come risalire il campo, poteva segnare magari su una seconda palla, su un calcio piazzato, però praticamente è stato quasi inoperoso. Quindi la svolta è stata il gol di Signorini. Noi Paio c'è stato un momento in cui, appunto mi ricordo questo commento, da me tra l'altro condiviso, sembrava vedere quasi le squadre giovanili proprio per l'agonismo, la componente agonistica che sembrava diciamo prevaricare sui tatticismi. In realtà poi come giustamente ha ricordato Gianmarco è stata talmente naturale anche, dobbiamo fare complimenti qui al tecnico Cati del faro, questo adeguarsi in continuazione alle folate offensive delle Rimini che in effetti dava un po' la sensazione di una partita giocata in maniera più naturale. In realtà probabilmente era tutto il bravissimo Porci ha dato un'altra chiave di lettura che però non è contraria a quello che si diceva noi in cronaca. Probabilmente si tratta di due facce della stessa medaglia perché comunque c'è stato un altissimo agonismo. Il Rimini si è adeguato subito dopo i primi dieci minuti in cui è stato anche un po' sorpreso dal furore degli avversari, però i giovani del Rimini si sono adeguati subito al tipo di tenore di gara e la partita è stata molto maschia, però anche piena di accorgimenti tattici di entrambi gli allenatori perché anche il Rimini si è adeguato non solo alla battaglia fisica ma anche ai diversi cambiamenti di schemi degli avversari con anche soluzioni piuttosto innovative. Mi viene in mente il portare palla di Brighi, cercare quei corridoi centrali, una squadra molto larga compreso Buonaventura che praticamente non è stato mai fermo, ha sempre spaziato. Una gara piacevole che poi ovviamente nel secondo tempo ha dovuto anche vivere le intemperie del clima che chiaramente poi hanno anche reso molto più difficile giocare a calcio. Ecco Giacomo, com'è stato poi quella ripresa perché c'è stato un nubifraggio nell'intervallo, non so se siete accorti. Assolutamente sì, certo. E poi dopo ha ricominciato a piovere, sembrava stesse tornando un altro nubifraggio, però insomma ha continuato a piovere con grande esistenza. Sì sì, a fine primo tempo un disastro, tutti i coriorevano a prendere il keyway, comunque noi alla panchina andavamo a scaldarci. Sì, e invece così vi raffreddavamo. Scaldarsi, un disastro. C'è da dire che però loro hanno il sintetico e sono stati più fortunati degli altri campi dove proprio penso che sia stata una cosa barattante ieri. Il sintetico ha tenuto benissimo, ma tiene benissimo. Il sintetico è un buon sintetico, assolutamente. Anche nuovo sì. Lo curano, lo rastrellano, comunque alla grande, tiene benissimo. Silvia, insomma Signorini. Ha detto tutto. No, Signorini ieri che è venuto in sala stampa era stata studiata bene alla partita dagli avversari, era marcato, stretto e nonostante questo ha fatto gol. Ha fatto un gol pur da marcato perché ormai c'era quasi mezzo di gol. Così marcato, Signorini non l'avevo visto. Però nonostante tutto aveva avuto l'occasione al sedicesimo e lì bravissimo il portiere. Ha fatto il gol e nella ripresa spostandosi a sinistra ha avuto un'altra clamorosa opportunità e poi dopo Giacomo ha avuto a sua volta dopo la ribattuta del portiere non era facile perché era praticamente al test della coscia. Hai stoppato di coscia e poi poi... No, l'ho proprio centrato. Era davanti alla specchio, mi sei messo tra... Ah, quindi hai provato due volte il tiro, era... Mi sei messo tra palle e porta e non riuscivo a prenderla porta. No, era troppo vicino veramente, non riuscivo. Non c'era più capito niente. Come è stata l'emozione di giocare a Romeo Nevi? Perché in campionato mi sembra insomma... È la prima volta. È la prima volta, vero? Sì. Assolutamente, è la prima volta. È un po' una cosa che ci pensavo a Fida Piccolino perché prima di partire da Bologna sì, mi allenavo con la prima squadra ma solo il giovedì magari nella partitella, nell'amichevole. Dopo abbiamo avuto le fasi finali con gli allievi e non sono potuto andare magari a fare una presenza con la prima squadra. È una cosa che comunque ci ho sempre pensato, è sempre una cosa che mi sarebbe dato dell'orgoglio e è fatto piacere fare l'esordio al Romeo Neri. Ho avuto il piacere di farlo in Coppa Italia contro la Marignanese ma in campionato è sempre diverso. È un campionato diverso, sì. Ha un valore, un sapore particolare, vero? Assolutamente sì. E in effetti. Poi insomma sarebbe stato bello anche, se per te che per Albini ha avuto un'occasione ancora più clamorosa. Anche lì il portiere è stato eccezionale, devo dire, bravissimo il portiere. Forse il migliore in campo del Faro, Cesare. Nonostante due gol subiti, ha fatto due parate strepitose, almeno due parate strepitose. L'ultima che pensavo fosse il terzo gol del Rimini ha fatto una gran parata. Su Albini, invece su quello di Signorini, secondo me Signorini l'ha fatto vedere un po' troppo presto dove avrebbe tirato. Era un po' rammaricato anche Lorenzo Signorini, si è detto, avrei potuto fare di più. Però di dire se il gol l'ha già fatto ed era più importante perché in effetti ha spezzato la partita. C'è stata anche una coda, diciamo polemica, se così vogliono definirla, in sala stampa perché il tecnico Cati ha praticamente tacciato il Rimini di poca sportività per non aver calciato fuori il pallone, aver continuato a giocare e aver trovato poi il 2-0 con un uomo a terra. Allora, andiamo a sentire le parole del tecnico del Faro, seguite da quelle di Alessandro Mastronicola che risponde a questa polemica e poi commenta anche rapidamente alla partita. Abbiamo solo un brano, noi sapete il lunedì sera non proponiamo di solito il dopogara, solo al limite dei piccolissimi spezzoni. Invece il dopogara integrale lo potete vedere su Icaro TV già la domenica sera durante il nostro overtime della domenica e subito dopo la partita che viene mandata in onda la domenica sera alle 22.22.15. Quindi vediamo questi spezzoni e poi ne parliamo insieme. Vittoria ampiamente meritata, se devo essere onesto mi dispiace molto in uno scenario come questo qua il secondo gol perché secondo me con un giocatore colpito la testa per terra non si può continuare 40 secondi a giocare. Questa è una cosa che trovo assolutamente fuori luogo. Accetto che a un certo punto della partita possano sparire anche i palloni che è normale, è normalissimo anche, non è la forza della squadra che fa, però quella cosa lì a mio parere posso dire che io avrei fatto mettere fuori la palla, sicuramente. Io non dovevo chiarirmi di niente, lui ha parlato di slealtà nei miei confronti, penso che l'unica cosa che non mi si può rimproverare è la lealtà sportiva che ho. Se andiamo ad analizzare la partita io intendo slealtà anche la perdita di tempo dopo cinque minuti dall'inizio della partita. Oppure un tuffo in area di rigore per cercare un rigore o se chiedete a Arlotti e gli chiedete quanti cazzotti abbia preso con palla lontana da lui gratuitamente io parlo di questa, secondo me, slealtà sportiva e non quella di cui parla l'allenatore del Faro. Oggi abbiamo reagito, abbiamo reagito contro, in una partita difficile, molto difficile, ma abbiamo reagito con l'orgoglio, abbiamo reagito con la gamba, abbiamo reagito con la voglia, con il cuore, abbiamo reagito con tutte queste cose qui e abbiamo messo dentro ovviamente anche una tanta bella qualità. Volevo vedere questa reazione e volevo vedere questo tipo di squadra perché per affrontare questa squadra avevamo bisogno di questo tipo di partita e sono contento di quello che i ragazzi hanno fatto vedere. Insomma Giacomo, un mister è soddisfatto? Assolutamente sì, quello che ci ha chiesto è di portare a casa il risultato e alla fine è quello che è avvenuto. Vi siete un po' preoccupati per quell'episodio che tra poco lo vedremo, possibile episodio da rigore negli ultimi minuti alla luce di quanto è accaduto contro il Castrocaro, la rabbia del mister. Sinceramente l'Eperlì a me non mi sembrava rigore, quindi l'Eperlì non ho avuto preoccupazione, però magari... Se l'avessi fiscato magari... Non c'era più però l'imbattibilità dai, quindi l'ho visto, devo dire, più arrabbiato dopo Castrocaro che dopo Faenza, quindi va bene. Andiamo a vedere proprio la moviola perché così anche andiamo a vedere il famoso episodio contestato dal tecnico Cati. Partiamo però dal trentaseiesimo del primo tempo, l'arbitro è Medri di Cesena. Andiamo a vedere questa azione del Rimini con il colpo di tacco molto bello di Filippucci per Arlotti. Arlotti che è proprio un passo dentro l'area, viene affrontato in questo modo da Nardi. abbiamo anche ingrandito l'immagine per cercare di vedere meglio. Ecco, ieri Baio avevi parlato di rigore netto, la sensazione rivedendo le immagini? Io ho parlato ieri di danno procurato. Danno procurato. Nel senso che lì per lì non ero perfettamente in grado di cogliere se fosse stato un intervento volontario o meno. Però confermo, rivedendo le immagini, che comunque il giocatore del Rimini si porta avanti il pallone e quello del Faro ha un altro passo, quindi è più lento, non riuscirebbe ad arrivare. Lì non ha nessun motivo per gettarsi a terra. Lui guarda, prova a calciare la palla e becca la gamba sinistra di Arlotti, prova a vedere. Lui prova a intercettare la palla. Ma la palla è già andata. In ritardo. Esatto, in ritardo. E lui prende la gamba sinistra di Arlotti, Arlotti casca. E questo è rigore? Secondo me è rigore. Per me io... Lui prova a calciare la palla. Diretta ho detto Solano. Lui prova a calciare la palla e aggancia Arlotti. Allora, questo è il rallenti, ma eventualmente è stato il rallenti anche in tempo reale, perché era comunque già passata la palla. Rigore per tutti? Io vedo forse l'intervento con la gamba destra del difensore sulla gamba destra di Arlotti, che gliela sposta, sembra che gliela tocchi. L'arbitro è molto vicino. L'arbitro è proprio lì a due metri. E di solito si sente anche il rumore di questi interventi in campo così vicino. Certo è che o è rigore o è simulazione. Invece lui non ha fiscato nessuna delle due cose. Eh sì, in effetti no, è vero. In effetti se non è rigore, insomma qui ci sta la simulazione eventualmente, perché comunque se non c'è stato il contatto Arlotti ci sarebbe buttato. Se non ci fosse stato il contatto Arlotti ci sarebbe buttato. Allora archiviamo il primo, andiamo a vedere l'episodio che ha fatto arrabbiare il tecnico Cati. Ne approfittiamo anche per rivedere questo gol. È stato un autogol in realtà. Alla fine dopo abbiamo detto proprio noi di Chiaro TV a tutti quanti, perché anche in cronaca sembrava esserci stata la zampata vincente di Alex Buonaventura. In realtà invece è stato anticipato dal difensore Michael Costantini che ha scramentato in fondo alla prova porta con talmente decisione che sembrava davvero il gol dell'attaccante. Luca Filippi se ne era accorto, mi hanno dato un messaggio a fine partita. Tutti dicono che è gol di Buonaventura, ma siamo sicuri. Ah ecco, quindi a qualcuno il dubbio è venuto. Però ho visto che tutti insomma avevano scritto, anche tutti i colleghi, gol di Buonaventura. Noi compresi durante la cronaca abbiamo dato a Buonaventura, poi ci faceva più piacere darlo a Buonaventura che un autogol. E lo speaker infatti ha detto che era gol di Buonaventura. E invece alla fine ci siamo dovuti ricredere. Ma andiamo a vedere soprattutto l'azione di Cicare, che è molto molto bella, partendo proprio dall'episodio contestato. Ecco, perché guardate, proprio Cicarevic è in pressione sul giocatore che poi rimane a terra, che è Corvino. Arriva poi Arlotti a recuperare il pallone. Guardate qua il numero uno, due giocatori, poi risalta nuovamente con tanto di tunnel il secondo. Arriva in area, mette lì in mezzo. Ecco, guardate, come dinamica in effetti era molto difficile insomma capire che avesse toccato il pallone in fondo al sacco. Ecco, innanzitutto vi chiedo, ci può essere fallo prima di Cicarevic e poi di Arlotti? L'arbitro è lì, è lì, è un metro e mezzo, non di più. Cioè, voler essere fiscali è proprio il primo contatto all'inizio, diversamente no, ma io onestamente mi vedo abbastanza d'accordo con la decisione dell'arbitro. E poi onestamente non capisco il contatto, io magari non ho gli occhiali, non ci vedo neanche bene, ma non riesco a vedere questo contatto alla testa di cui parlo. Noi intanto ci vediamo, continuiamo a gustarci il replay del tunnel, perché questi sono numeri che insomma si fanno fatica a vedere anche in Serie D o in Lega Pro. Figuriamoci nel campionato di eccellenza, davvero un gran pallone in mezzo. E lì insomma, se non fosse arrivato l'infensore sarebbe arrivato davvero Buonaventura, quindi comunque sarebbe stato un gol fatto per il Rimini. Ecco, io sono d'accordo e possiamo anche tornare con il nostro Davide in regia a questo episodio, guardate, arriva Arlotti, ma insomma qui dov'è il contatto così importante con la testa dell'avversario? Ve lo chiedo, perché io vedo solo possibilmente, come unica possibilità, il braccio che va a colpire il volto del giocatore, vedo solo quella, ma non mi sembra con una forza tale da praticamente stendere il giocatore, richiedere l'intervento del medico per una botta del genere. Insomma, non è un testa contro testa o un ginocchio contro testa, io vedo il braccio, il braccio che tra l'altro Arlotti cerca di levare, perché guardate anche il movimento, guardate, lo porta dietro, quindi cerca di evitare il contatto con l'avversario. Quindi se c'è è praticamente una manata in faccia, non comunque un intervento che richieda l'intervento del medico. E' una delle poche cose fatte bene dall'arbitro ieri. Tra l'altro era molto vicino l'azione, devo dire, in tutti e due i casi. Sì, nel senso che poi, torno alle dichiarazioni del loro allenatore, quando una squadra subisce, accusa l'altra di non aver buttato fuori il pallone. Quando una squadra ne usufruisce di un'occasione di questo tipo, dice, è l'arbitro che è deputato a fermare il gioco e bisogna giocare finché l'arbitro lì è vicino, decide lui se fermare o no. Basta che questa regola però valga sempre, perché poi quando la convenienza ti porta a dire, dovevi buttarla fuori perché hai preso il gol, oppure dovevo giocare perché è l'arbitro che interrompe, valga per tutti. Quindi parlo anche per Irimi in questo caso. Secondo me ha fatto bene l'arbitro e ha fatto molto male l'allenatore a fare quella parte che ha fatto ieri in sala stampa. Ecco, tra l'altro il movimento anche di Corvino è un movimento anche col braccio per cercare di fermare poi Arlotti che sta andando via col pallone, il primo movimento. Poi probabilmente il colpo, io non metto in discussione il fatto che possa aver preso il colpo e sono sicuro che un colpo una manata in faccia l'ha presa. La cosa che però, diciamo, contesto è per un contatto del genere, cioè a parte insomma si sta a terra due minuti per un colpo così, io non lo so. Secondo me insomma, forse nel calcio, ma forse nel calcio non voglio fare una colpa in questo caso a Corvino di per sé, lo prendo soltanto come mero esempio, però forse nel calcio a volte quando si subiscono questi contatti, perché se uno gioca col figlio e gli arriva una manata in faccia, sono sicuro che non va neanche per terra, insomma una manata del genere. Non mi sembra di questa potenza da abbattere un giocatore per 30 secondi per rimanere per terra stordito per 30 secondi. Come dinamica. Altre due cose, Roberto, non passano 40 secondi, perché ne passano siano 15, perché l'azione è proprio lì, cioè nasce da lì e poi c'è. Però, diciamo, c'era il tempo, c'era il tempo, visto che non è poi stato largato sinistra per mettere fuori. L'arbitro è vicinissimo e guarda caso il giocatore chiaramente ha perso palla e si accascia a terra. Sono situazioni diverse, quelle dove chiaramente tutti si accorgono subito che è successo qualcosa magari di veramente preoccupante, perché il giocatore ovviamente colpito... C'è stato un contatto tra due giocatori ieri che sono rimasti a terra e quindi l'arbitro ha fermato il gioco, insomma c'è stato anche il caso proprio nella partita del Rimini. Insomma, l'arbitro tra l'altro era molto vicino, ecco, secondo me in questo caso l'arbitro ha fatto bene a non fermare il gioco e il Rimini ha fatto bene a continuare. E poi dopo ognuno chiaramente dice la sua, volevo sentire anche Giacomo su questo episodio. No, no, assolutamente sì, secondo me si doveva fare così. Non mi sembra nessun intervento falloso di Arlotti, non mi sembra nessun gioco pericoloso. Benissimo. Non è nessuna situazione pericolosa per il giocatore, insomma. Ma poi è una simulazione. Se è rialzato senza danni. Se è rialzato senza danni è continuato a giocare. Insomma, la sensazione è stata proprio quella di prima cercare di fermare Arlotti con il braccio e poi, insomma, cercare un po'... Accentuare un po'. Accentuare un po'. Diciamo così. Andiamo all'ultimo episodio, quello a cui facevo riferimento prima. Giacomo, siamo al 49esimo, quindi in piena addirittura d'arrivo in zona arrabbiatura Mastro-Nicola. La zona arrabbiatura Mastro-Nicola perché il Rimini dopo aver giocato comunque un'ottima partita si è fatto un po' schiacciare, diciamo anche durante la cronaca diretta, negli ultimi minuti di recupero. Ormai sta diventando una costante, ma rispetto all'inizio del campionato è sempre più posticipato il momento. Quindi è una nota lieta, no? Andiamo a vedere questo episodio con Mattia Lenzi che frana a terra, tra l'altro gran partita di Mattia Lenzi, soprattutto nel primo tempo è stato davvero a tutto campo. Frana a terra dopo questo contatto con Carne Secchi. Ecco, tra l'altro il primo, ecco guardate, quando Carne Secchi va per colpire viene leggermente spostato dall'avversario. Poi c'è questo contatto come lo vedete, molto difficile devo dire, abbiamo anche visto e rivisto, però è molto difficile. Innanzitutto il primo contatto può essere punibile, si fa Giacomo? Torniamo un attimo indietro, quello col pallone in alto, ecco questo, ecco qua, perfetto. È in vantaggio e viene leggermente spostato con una spallata, si fa? Allora, secondo me se Luca fosse caduto poteva fischiarlo benissimo, però lui rimane in piedi, ma secondo me dopo, anzi, non darei mai rigore io sinceramente. Non lo daresti? Ma mai. Provo a prendere la palla ma non vedo nessun calcio, nessuna collutazione, niente. Sì, ci può essere un tocco tra i due piedi nel cercare di andare nel pallone. Nello stacco, ci può essere nello stacco. Ecco no, andiamo più avanti, andiamo più avanti, perché questo qua è il primo contatto che non è stato sanzionato dal direttore di gara. Ecco, questo è il momento del secondo contatto invece con i piedi, in questo caso quello prima era di spalla, questo di piede. Cosa dite? Non c'è niente. Fatto bene? Secondo me non c'è niente, lui cerca di guadagnare il possesso del pallone, ma è sbilanciato lì indietro e allunga le gambe per andare a prendere il pallone e perde l'equilibrio. Mi tocca dire che l'arbitro ha fatto due cose fatte bene. Ah, vedi? Alla fine che è tirando le somme. Allora, andiamo a vedere per completare il discorso faro, poi ovviamente spazio ai nostri amici da casa. La vignetta, il nostro baio, perché insomma andiamo a vedere. La leggi tu, baio, leggi dal sole. No, è fantastica. Allo stadio si vedeva poco e niente e tu Roberto potrei confermare. Posso confermare il primo tempo? Insomma è difficile anche guardare i numeri, vedere i numeri dei giocatori. Abbiamo spettato il faro. Bellissima, io farò una raccolta delle tue vignette, baio. Allora, andiamo con qualche messaggio da casa? Allora, ci scrivono da casa, quando si decidono a fare una copertura in curva est, ieri sono andato via alla fine del primo tempo, mi sono infradiciato tutto. E questo era Max. Emo a stare sotto quella pioda. Anche quelli dei distinti. Io ho visto la grande fuga dei distinti nell'intervallo, quando è venuto giù, davvero, è venuto giù il mondo. Ho visto che praticamente si era svuotato. Si vede la scritta Rimi, a Cirimi, in 1900. Io ho quelli che sono rimasti, o no, a tanto di cappello, perché c'ha... Ma sì, ma anche quelli che sono andati sotto è che sono tornati sopra. Anche quelli in curva, c'ha... Con l'acqua che ha fatto... Comunque si può dire che pioveva copiosamente anche in tribuna coperta. Sì, sì, no, arrivava di vento perché... No, no, arrivava di buchi. Ah, ecco. Noi siamo stati un po' più fortunati. La nostra zona era ben coperta. Niente a che fare con, ovviamente, la pioggia che hanno preso quelli che erano in curva o nei distinti. Però uno pensa che in tribuna coperta non piove. Invece piove. Piove anche in tribuna coperta. Leggi questo, leggi questo, che mi piace. Su questo dopo faccio anche una postilla. Ecco, va. Bonfa, continua a parlare così, che noi ti amiamo come sei, altro che caressa e pardo. E questo ce l'ha scritto Pavi. La postilla è questa. Pavi ci scrive da quando ho iniziato a fare calcio.basket. Sono anni che io leggo i messaggi di Pavi. Quindi sicuramente anche prima che tu arrivassi, perché c'era già calcio.basket. Non lo so, perché ho scoperto che Pavi è giovane, perché l'ho conosciuto. Ho conosciuto Pavi, per caso, così. Mi ha detto, ma te sei Jenny? Eh sì, ah, io sono Pavi quello che scrive. Allora, quindi lo saluto a posto. Lo saluto anch'io e lo ringrazio, perché, insomma, è un bellissimo complimento. Sì. Torna la... Anche qui, scusate, postilla. Questi sono i seguaci che fa vaio in giro per le terre romanzoli. Ah, ecco, ecco. Esatto. Gli adepti, gli adepti. Torna la vittoria e rimini col faro dopo lo scorso weekend amaro. Assegno Signorini, che fa rima con l'autore dell'autorette Costantini. Il faro lo abbiamo spento senza troppe pretese. Ora sotto con la Marignanese. Che valgissimo. Andrea Scuola Baio. Lui si chiama sempre così. Andrea Scuola Baio, devo dire che, insomma, sta diventando davvero un poeta. Davvero un poeta. Bravo. Poi alla fine ha scritto, un po' scritto, ma dimenticavo un saluto a Porcellini. Ah, grazie. Molto bene. Allora, ce l'hanno già ricordato. Giacomo, il prossimo turno è con la Marignanese. Sì, con la Marignanese siamo pronti a giocarcela a viso aperto, assolutamente. Posso intervenire subito? Certo. Arrivato subito dopo il messaggio di Andrea Scuola Baio, sarà comunque un piacere ospitare il Rimini e qui i fari non si spengono. San Giovanni o Marignanese. Tra l'altro, una Marignanese che con il cambio della guida tecnica, arrivato Mr. Montalti, che è stato anche nostro ospite subito dopo la prima gara, ha centrato quasi tre vittorie. Due vittorie e un pareggio preso dagli avversari per i capelli, in mezzo. Sette punti in tutto il partito. Sette punti, quindi. No, no, assolutamente. Loro vengono da comunque una striscia di risultati ultimi positivi, ma noi comunque siamo pronti a giocarci da viso aperto, assolutamente, senza guardare in faccia nessuno, in poche parole. Abbiamo già capito, insomma, poi per te è un ritorno a Rimini, quindi insomma sicuramente c'è una fetta di cuore, però tra poco si apre il mercato e si vocifera di un tuo possibile trasferimento alla Fiericcione, ne abbiamo parlato anche nelle parti precedenti. Allora... C'è qualcosa? Sinceramente no, me lo dici tu, io sono cose che non sapevo, anzi mi cogli molto impreparato, non so niente, proprio niente. La tua intenzione però, tenuto conto che è difficile trovare spazio con Alex Budaventura davanti, però... Sì, questo assolutamente, però comunque dovrei parlare comunque con la società, con Pietro, con il direttore, quindi non lo so, non lo so. Io comunque la mia volontà è di stare a Rimini, io a Rimini sto bene, cioè la mia città e sono i colori con cui sono cresciuto, però poi giustamente dovremmo parlarne. Comunque me lo vieni a dire tu, io non ho saputo niente da nessuno. Ti dico anche, sono arrivati anche dei messaggi, i nostri telespettatori sono molto... Non ho saputo proprio niente da nessuno. Sono molto preparati, devo dire, quindi forse qualche voce c'è, però ricordiamo anche che se Redo c'è da un infortunio, quindi insomma anche l'avvio di campionato è stato un avvio insomma complicato e ancora dobbiamo vedere il vero Giacomo Cecconi. Assolutamente sì, io vengo da un infortunio abbastanza grave comunque calcistico, avviene ormai piuttosto spesso la rottura del crociato interiore e miniscolo, in più casi come viene in mente tanti giocatori, anche in alti livelli, però ancora devo tornare ai livelli che comunque io mi sono prefissato, però stiamo lavorando e stiamo lavorando bene, adesso mi mancano minuti nelle gambe, spero arriveranno. Bene, se è possibile con la maga del Rimini, vero? Assolutamente sì. È stato un po' il coronamento del sogno insomma da bambino. Sì, è un sogno, comunque vai allo stadio con tuo padre, allo stadio con i tuoi parenti e comunque Rimini è Rimini, dai Rimini, per un riminese è comunque la squadra della società, quindi è orgoglio, dai come ti ho detto prima. Eh già, ed è stata una bella politica, devo dire, quella della società di portare Rimini, tanti riminesi insomma, valeriani, signorini, sono tantissimi, poi per imparare anche dei giovani, perché ieri insomma c'erano anche tante essenze, abbiamo ricordato prima, c'erano anche i giovani, anche i giovani bravi, assenti, abbiamo visto Fabri anche in Coppa, quanto sia comunque un giocatore comunque promettente, Contarini che aveva giocato le ultime da titolare, le aveva giocate bene in grande crescita, quindi insomma è una bella pattuglia di Riminesi e questo credo che inorgoglisca maggiormente anche il tifoso che poi si reca allo stadio per vedervi insomma affrontare gli avversari. Poi speriamo il prima possibile baglia con la maglia a scacchi, perché... Adesso a chi l'ha visto abbiamo scritto. Questa maglia adesso sentiremo e daremo notizie anche per quanto riguarda... No, tutti stanno aspettando anche loro, perché io ieri ho guardato la partita di fianco a Pietro, Tamai che aveva il zubottino, che ho detto ah bello, un bel keyway, no? Anche per una chiara rifà, ma stai zitta che stiamo aspettando ancora tutte le maglie, tutte le divise... Soprattutto a noi interessa solo la maglia a scacchi. A noi la pediglia si piace così com'è, luta. Ma no, dai, che già... Basta che già insomma le malignità sono dietro l'angolo per la nostra Silvia. Roberto, volevo soltanto dire che un nostro telespettatore ci chiede di ricordare la prevendita riservata alla tifoseria bianco-rossa proprio in occasione dei marignanese. Perfetto, allora andiamo subito, perché insomma su News Rimini trovate già tutto, già da oggi pomeriggio, però siccome è giusto insomma che vi rendicontiamo anche da questo punto di vista, Jenny, allora apriamo subito la notizia e andiamo appunto a leggerla. In occasione della gara marignanese Rimini, in programma domenica allo stadio comunale di San Giovanni in Marignano con fisco d'inizio alle 14.30, i biglietti per il settore riservato alla tifoseria bianco-rossa si potranno acquistare solo in prevendita al prezzo di 5 euro. I tagliandi saranno disponibili al botteghino del Romeo Neri venerdì dalle ore 17 alle 19 e sabato dalle 10 alle 12.30. Domenica invece il prezzo del biglietto sarà per tutti pari a 10 euro e si consiglia di acquistare il biglietto in prevendita per evitare code alla cassa dello stadio proprio il giorno della partita. Ecco giusto, tra l'altro conviene anche acquistarlo in prevendita perché costa la metà. 5 euro in meno. Insomma un bello sconto. Allora siamo in chiusura, grazie a Giacomo Cecconi. Grazie a voi. In bocca al lupo per il proseguo del campionato. Crepi il lupo assolutamente. Ti vogliamo vedere adesso anche in gol a Romeo Neri eh? Certo però lo voglio anch'io. Mastro Nicola permettendo perché ti deve far giocare. No vabbè ma adesso dopo le scelte non si possono discutere. Le fa mistere, ci mancherebbe. Grazie a Gianmarco Porcellini. Grazie a voi. Chiudo visto che durante la puntata non se ne è parlato. Faccio un plauso a Filippucci per la sua prestazione. Mancava ricchiuti però penso che non era facile non farlo rimpiangere. Lui c'è riuscito alla grande. È vero è vero ma l'avamo visto già in Coppa e sicuramente un altro ragazzo davvero molto molto interessante. Grazie Gianmarco anche per aver ricordato. Grazie Baio. Saluto a tutti. Allora io ci metto anche Nanni che ha sentito cola. E passo la palla. Dei giovani c'era anche Mania a centrocampo. Se vuoi Silvia ricordare anche Cristian Mania. Tutti no? Forse un po' Buonaventura. La posizione che ha avuto ieri un po' lo penalizza secondo me. Diciamo che con la marcatura uomo è stato un po' più decentrato. Insomma come diceva prima Gianmarco era chiamato più ad allargarsi. Magari a lasciare anche spazio per gli inserimenti di Signorini per esempio che è andato in gol. Ricordiamo anche che è stato messo in piedi proprio all'ultimo. Quindi non era al meglio anche Buonaventura. E quindi anche insomma non era in condizioni proprio ottimali. E Cesare non ti ringrazio perché rimani con me. Saremo in buona compagnia perché avremo l'ospite del Sant'Arcangelo e parleremo di questo pareggio con un po' di rammarico. Spesso dobbiamo dire un po' di rammarico perché viene riacciuffato proprio in diritto d'arrivo del Sant'Arcangelo però insomma un 1-1 che è un puntone contro il Venezia con delle strafavorite per il salto in Serie B. Dopo la pubblicità saluto anche però la nostra Jenny Bronzetti. Eh beh sì io auguro tutti un buon proseguimento con calcio.basket e do appuntamento la lunedì prossimo. Perfetto grazie Jenny e dopo la pubblicità.